Eccoci di tornare sui dei, in realtà ci manca pochissimo, tipo 3 di esperienza per fare un livello, quindi direi ci andiamo un attimino a svuotare i nostri campi qui, ci ripiantiamo magari, abbiamo livellato, giustamente mancava pochissimo. E praticamente ci ha dato altri campi, la macchina da cucire, maffi nei lamponi, cappello di lana, purtroppo non possiamo ancora farlo, lamponi, magliette in cotone, gazebo e il padiglione. Quindi direi a sto punto, andiamo un attimo magari di prendere queste carote, ci mettiamo un altro po' di soia, la rimetterei direttamente qui in realtà, qui magari ci mettiamo, l'indaco in realtà già l'ho piantato, quindi si può fare anche a me, mettiamo magari un po' di grano, che ce ne abbiamo soltanto 8, ci rimetterei un attimino un po' di grano. Poi visto che abbiamo sbloccato i lamponi, io ce li metterei quasi quasi qua in mezzo, ci basta, magari se non spendo tutte le monete, ok per il momento non ne metto altri, questi qui in realtà, questi campi vorrei tipo metterli così, solo che me ne rimane uno, mi scoccio un po' a metterlo di fianco. Però purtroppo, e in più abbiamo sbloccato la macchina da cucire, purtroppo ci vorrà una vita, quindi praticamente il molo mancano ancora 16 ore, il telaio 10 e la macchina da cucire altre 20 ore. A questo punto direi ci mandiamo magari a Tom a prendere le seghe, anche se, mi sa che 10 non ci basteranno, perché in realtà volevo dispostare tutta questa parte qua sopra, così magari da metterci tutte le nostre strutture che creano oggetti, così magari è un po' meglio da gestire, no? Devo rimettere un attivino un bel po' di zucchero di canna, perché questo qui mi finisce sempre alla velocità della luce, e qua praticamente ci hanno aiutato, per fortuna. Così magari riusciamo a fare anche l'evento delle 25 consegne, anche se in realtà non credo sia l'ultima. No, infatti, probabilmente la prossima è a 25, no in realtà la prossima è a 25, e praticamente l'ultima dovrebbe essere a 50 a sto punto, ma praticamente quando ci facciamo aiutarle la ricompensa non va a noi, ok ci sta giustamente. Allora, vediamo un attimo, qui non possiamo mettere nulla, magari ci metto un altro po' di grano, a questo punto magari recuperiamo un po' di latte alle mucche, qui ci sta, vediamo che c'è abbastanza cibo, lo sa proprio da no, allora ci abbiamo un po' di problemi tecnici, facciamo che... Vediamo un attimo questa roba, 291 dexp, in realtà è tanta roba, il grano in realtà sta ma a posto, ci metteremo un po' di carote, lui ci ha portato le seghe, guarda ce ne prendiamo 9, qui sta facendo cose, perfetto, qua non possiamo fare nulla, ci manca la pancetta, porca miseria. Eh no, mi dispiace, riprendiamo la ricompensa, visto che si può, ce lo ripandiamo, recuperiamo un po' di uova, così magari facciamo un po' di pancake, visto che non si può fare altro purtroppo, facciamo così, abbiamo recuperato tutto, ma sa da no, mangiate gallinelle un attimino, questa qua mi scappa sempre, porca miseria. In realtà ce n'è anche un'altra, io comunque ogni volta ne messo qualcuna, di latte ce n'abbiamo un casino, guarda pigliatelo, e a sto punto ne abbiamo un altro paio, in realtà non è per niente male. Prendiamo un attimo il cibo per le mucche, vuole, prendiamo le seghe, e direi che cominciamo un attimino a disboscare qua sopra, così almeno facciamo un po' di spazio, no? Comunque comunque man mano andando avanti magari ci servirà anche. Non c'è cibo per le galline, in realtà ce n'è un casino, se le facciamo così ce le facciamo mangiare un attimino. Queste non devono più mangiare, queste invece sì. Altra ricompensa per noi. Mandiamo un po' di lana, che comunque male non fa. Poi ci metterà in realtà un altro podgranturco. Anche se tocca aspettare, perché mancano 50 secondi. Allora vediamo un attimo cos'altro ci ha sbloccato. Poi sono decorazioni, e in realtà per il momento facciamo che evito di usarle. Facciamo magari tutte le consegne che ci possiamo fare. Un solo hamburger e 133 di Expo. In realtà devo dire che non è per niente male, tipo. Poi ci facciamo di nuovo la panna ce l'abbiamo, il burro anche. Dovrei fare il formaggio. In realtà facciamo che me ne fai giusto due e un altro po' di panna. Perché in realtà il burro finisce alla velocità della luce. Perché purtroppo i popocorn al burro ci mettono un'ora. Però insomma ogni volta ce ne serve uno. Questa è stata una placca di Expo. Perché ci manca lo zucchero? Almeno possiamo fare questa. Comunque non è male. Vediamo lo zucchero quanto ci mette. In realtà non è proprio in coda. Non va per nulla bene. Facciamo che ripiantiamo un attimino il grano. Ci facciamo il cibo per le mucche. Anche se mi sa che lo devo mettere di qua. A questo punto lo metto a fa un bel po' Visto che comunque ci serve. E rimetto a fa anche il cibo per le galline. Non ci abbiamo un grano tutto. Vabbè. Non è un problema. Visto che comunque ci mette poco. 261 d'Expo. In realtà. Non è per niente male. Questa è una placca di roba da ritirare. Cavolo. Questo ci chiede i lamponi. Eh i lamponi però. 18 ore. Vorrò un po'. Quasi quasi ne pianterei un po' di più però. Poi ci serve gran turco. Zucchero di. Zucchero di canna. Come sempre si chiama. Ok. Nulla. Questo non si può fare. Questo nemmeno. Possiamo fare praticamente soltanto il pane. Facciamo che. Ne facciamo un attimino un po'. Almeno. Ce lo teniamo da parte. Anche se attualmente non ci serve. Invece qui. L'hamburger. Non abbiamo la pancetta. Pancetta e uova. Non abbiamo la pancetta. Porca miseriaccia. Manca un bel po' di roba. Quindi si deve avere da quasi quasi. Visto che questi lamponi. Ci vuole una vita. E ne mettere un altro po' di qua. Così almeno. Quando ci servono. Abbiamo un bel po' da parte. Quando comunque le monete si rifanno. Non è un problema. Metto a fare. Il gran turco. Lo rivendo. Va easy. Ma vediamo se possiamo vendere qualcosa. Guarda. Quattro zucchero di canna. Quasi quasi. Facciamo che ne vendo dieci. Perché tanto. Quattordici da parte. Ma basta. Qua che possiamo togliere. Vorrei evitare di consumare le viti. Però purtroppo. Non abbiamo un casino. Quest'altra cosa. In realtà ci abbiamo quattro pale. Le possiamo usare. La miniera al 24. Quindi quasi quasi. Se purtroppo lo spazio non è infinito. Facciamo che vendiamo le pale. Le togliamo di mezzo. Ole. E con l'evento. Vediamo un attimo. A che punto siamo. 23 su 25. Porca miseria. Questo ci chiede una mela. In realtà. Se può fare. Facciamo che la piglio da quest'altro alberello. Le ho presa tutte. Ok. Come così. Speriamo che ci dà un'altra missione che possiamo fare. Ovviamente no. Maglietta di cotone. Dopo alcune cose non possiamo farle. Perché. Ho fatto un casino da exp. E un casino di monete anche. Perché comunque vi ripeto. Col grano. Le monete bene o male. Se fanno abbastanza easy. Peccato che. Il telaio ancora. Ci richiede un casino da tempo. Beh. Ci possiamo fare sicuramente questo. E comunque. Obiettivo personale completato. Altre 5 pale. Le avevamo appena tolte di mezzo. Mi sembra 4. Togliamo di mezzo anche questo. Perché per il momento. Non devo togliere nulla. Almeno credo. No. Più che altro ci servono le accette. E il seghe. Ah. Ne possiamo fare un'altra. Ottimo. Vai così. Infatti. 50. 26 su 50. Diciamo che. Un altro po' ci vuole. Non so se toglie un altro paio di mele. Che le tengo da parte. O poi lasciarle lì. Vediamo magari una. Quanto vale di mela. Per curiosità. Più che altro. 39. Beh in realtà. Per il tempo che ci vuole. Non vale nemmeno la pena. In realtà. Ma sa. Qua possiamo fare altro. Ma sa da no. No. Purtroppo ci manca tutto. Vediamo quanto manca qui. Questo non lo possiamo fare. Guarda. In realtà. Ci servirà lo zucchero. Quindi magari lo metti in quota. Qua abbiamo venduto. 2600 monete. A sto punto. Sapete che vi dico. Ci mettiamo un altro paio di alberi. Così magari. Abbiamo un bel po' di mele. Quando ci serviranno. Anche se temo che. A un certo punto. Ci servirà un po' di spazio. Perché saranno più. Alberi da mettere. L'altro al 22. Ci si blocca il ciliegio. Vediamo un attimo. Nel prossimo livello. Che c'è da. Prossimo livello. Pavone marrone. Pavone blu. Il cagnolino. Un po' di roba. In realtà. Niente di strutture. Va bene. Prendiamo soltanto il grano. E magari ripianto. Non so se il zucchero di canna. In realtà. Ci conviene la soia. Magari non litigo. Col gioco. Ci mettiamo un altro po' di soia. E questi che avanzano. A questo punto. Ci metto un po' di grano. Qua sta craftando tutto. Qua tra l'altro. Gli ho aumentato uno slot. Così magari di notte. Mi crafta qualcosa in più. Lo sta. Vediamo un po' di qua. E in realtà. Visto che con lo zucchero. Sto sempre. Come di. A corto. Ma da gemmati. Non vuole questo. Così. C'è uno slot in più. Sempre quello stesso discorso. Di notte. Proprio magari. Qualcosina in più. E praticamente. Ci ha fatto anche un livello. O meglio. Ha sbloccato una stella. Ma non mi ero nemmeno a corto. E praticamente. I prodotti. Fruttano più monete del 10%. Per gli ordini con il furgone. Non è per niente male. Beh. Comunque. Mezzo livello. Ce lo siamo fatto. Purtroppo. Il molo. Il telaio. E la macchina da cucire. Ancora non sono pronti. Quindi direi che per oggi è tutto. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.